Andando, fratello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra un uomo di cui potersi fidare. Non proprio. Ha un debito da saldare. Se non tenesse fede alla sua parola, non pagherebbe le conseguenze. Serve trovare un punto da gancio per la fune nel giardino. Un ingresso in scena di grande effetto. Forse, ma dovremmo riuscire a entrare senza essere visti o sentiti. Il gazebo sembra fare al caso nostro. Bene. Lancia la fune. Fatto. Alastair. Resta qui e non perdermi di vista. Una volta finito, ti darò il via libera per entrare. D'accordo. Ma sta attento. Se fornassi senza di te, mia sorella mi ucciderebbe. Quel che non sanno la fa soffrire. Cos'è? Chissà che cos'è. Hai! Hai tu! Cos'è? Chissà che cos'è. Cos'è? Cos'è? Chissà che cos'è. Grazov, non è saggio eliminare le guardie della compagnia finché non abbiamo prove Non c'è tempo Alastair, devi fidarti di me, è l'unico modo Accidenti, scendi ai giasti inferiori, il cancello è chiuso, dovrai trovare la chiave Grazie Grazie Niente chiave Cerca ancora Grazie 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 Prendila e raggiungi i giardini inferiori. 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 Forza! Ci vediamo dentro. Prendila e raggiungi i giardini inferiori. Prendila e raggiungi i giardini inferiori. Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Guardia a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.